Musica Allora, hai iniziato il Festival del Cinema? Eh, infatti, è un evento, un avvenimento tanto sperato a Roma, no? Perché amo il cinema, anche se tutto sommato in Italia ho fatto solo due commedie, uno è pure per uscire alla fine dell'anno, comunque in Brasile ho fatto tanto cinema e amo. Non solo da protagonista, ma mi piace tanto vedere i bei film, no? Sono storie che ti emozionano, no? Ti volevo fare una domanda un po' più graffiante, tu cosa centri con il cinema? Io, oltre che, come ti ho detto, ho fatto qualche film, 4-5 film in vita mia, comunque centro perché se non attrice, no? Penso che tutte le attrici hanno un grande desiderio per essere il protagonista di un film così importante che va pure a un festival, no? Senti, non è troppo scollato per questa sera? Eh, infatti, sono un po' la meline, no? Perché trovi scollato? Ma io vedo che tutte le persone che faccio questa manifestazione, tutte attrici, no? Attrici, tutte le belle donne, sono tutte scollate, perché no? Ah, ma sulla hai ragione Soprattutto che penso che ho ancora un bel decote, è naturale che è importante Don't stop dancin'